Buona giornata amici oggi è mercoledì 10 novembre ben ritrovati per la rassegna stampa di Fano tv leggeremo insieme come tutte le mattine il resto del carlino e il Corriere Adriatico con le notizie di carattere locale ma prima vediamo come sempre è il santo del giorno e il meteo oggi è San Leone Magno San Leone Magno fu un papa dottore della chiesa visse nella prima metà del quinto secolo un secolo dove ci sono molti santi che oggi vengono ricordati dalla chiesa cattolica fu considerato il martello degli eretici convocò il concilio di Calcedonia ma è molto noto soprattutto per avere fermato Attila che stava invadendo l'Italia e stava marciando con la sua orda degli unni verso Roma è un papa dunque importante lo si ritrova anche nei libri di storia diamo un'occhiata quindi anche alle condizioni meteorologiche e vediamo come la situazione è ancora piuttosto incerta vediamo le nuvolette sulla mappa ancora una giornata uggiosa sulle Marche con nubi diffuse e precipitazioni molto deboli però esporadiche ci sarà anche un lieve aumento termico quindi un leggero rialzo della temperatura bene ora diamo un'occhiata invece alle prime pagine dei quotidiani questa mattina a partire dal resto del Carlino ci sono due notizie in apertura che riguardano un po' quello che è accaduto nella giornata di ieri quello che ieri hanno riportato i quotidiani ovvero due notizie di cronaca la vicenda della ragazza che si è dichiarata lesbica ed è stata malmenata dai genitori dovete lasciarmi libera di amare ha dichiarato vi voglio bene babbo e mamma però insomma la mia vocazione è questa e poi abbiamo la vicenda invece della commessa che è riuscita a sgominare con il suo sangue freddo ho fatto una rapina nel suo negozio ho protetto il negozio e poi sembrava uno scherzo ha dichiarato con un pizzico di incoscienza però insomma ci ha voluto tanto tanto coraggio altri richiami riguardano il film su Benelli mio nonno Tonino Benelli mito sulle moto e Don Giovanni e poi ancora quello che è accaduto all'interno dell'ordine provinciale dei farmacisti si è dimesso tutto l'apparato direttivo una spaccatura su un provvedimento l'antinfluenzale nell'oratorio di Santa Maria di Loreto a Pesaro per 200 che hanno fatto domanda qui fila tutto liscio e ancora guardie mediche introvabili la colpa è anche della regione ed una dichiarazione della consigliere regionale Michela Vitri del PD che va all'attacco per quanto riguarda lo sport vediamo la vis al Benelli incontro tra i patron Bosco e Pizza e per quanto riguarda invece la cronaca abbiamo anche il richiamo della morte di Edgardo Gelli il cantante che è deceduto in seguito ad un incidente stradale Mussolini lo baciò da bambino e questo è il richiamo sul Corriere Adriatico l'apertura è dedicata all'ospedale di Muraglia che oggi acquista quasi tutta la prima pagina il Comitato dei Tecnici ha fatto la sua scelta per il sito rispetto a case bruciate meglio come qualità sanitaria dunque ormai sembra che Muraglia prenda il sopravvento anche se ieri i giornali propendevano un po' per case bruciate la situazione si è completamente ribaltata e poi vedremo perché vaccinazioni all'oratorio un buon inizio un articolo sull'influenza di Letizia Francesconi Miralfiore spaccio gerarchico lavori per noi o sei nei guai una intimidazione a un ragazzo che è entrato nel mondo della droga e poi ancora la regione si muove dipartimenti oggi nomine a Gozzini va anche Lars e quindi diamo un'occhiata all'interno del Corriere Adriatico in aeroporto con i terminal vuoti prima c'erano file interminabili il Green Pass non blocca il virus Adele Cosma che vive a Porto Sant'Elpidio e viaggia tra l'Italia e la Romania dichiara eviterò di andare dai parenti Adele Cosma è una commerciante originaria di Clui Napoca in Romania e da vent'anni a Porto Sant'Elpidio è tornata di recente nel suo paese ma solo tre settimane fa sono stata a trovare i miei genitori ed ora trova delle difficoltà per quanto riguarda il passaggio in terapia intensiva 17 su 23 sono Novax l'età media 58 anni crescono i degenti con il virus ma i vaccini proteggono dalle forme più gravi Salta Martini, zona gialla lontana abbiamo altri 25 posti per le rianimazioni ha dichiarato il tasso di incidenza è ormai abbondantemente sopra i 50 casi ogni 100.000 abitanti e ieri ha raggiunto in tutta la regione quota 72,66 con 138 nuovi positivi registrati insomma siamo un po' al limite per diventare zona gialla ma ancora abbiamo un piccolo spazio per respirare e vedremo se poi i positivi saranno in regresso nei prossimi giorni e ancora vediamo sulla sanità la scelta dei tecnici della regione che hanno propeso per muraglia la regione i tecnici hanno scelto il nuovo ospedale a muraglia rispetto a case bruciate preferito perché ha già una struttura sanitaria e per la sostenibilità Ricci dichiara dopo questa scelta ora bisogna accelerare sul progetto e l'assessore regionale a Salta Martini Pesaro e Macerata sono i nostri interessi e su questa tabella abbiamo un interessante reso conto di tutte le vicende che hanno riguardato la scelta regionale sull'ospedale dal maggio del 2011 quando la provincia ha proposto quattro siti vi ricordate erano Fosso Seiore, Muraglia, Chiaruccia e case bruciate alla scelta della regione da parte del presidente Spacca che aveva scelto Fosso Seiore poi tutte le polemiche degli ambientalisti che avevano contestato tale scelta per lo scempio ambientale che avrebbe provocato e poi ancora tutte le altre vicende si abbandona Fosso Seiore e la giunta Ceriscioli sceglie il nuovo sito di Muraglia la giunta regionale a Quaroli cambia ancora una volta approva il master plan dell'edilizia sanitaria e contesta i siti il sito di Muraglia ponendo di nuovo in gioco case bruciate ed ora abbiamo la scelta definitiva per quanto riguarda Muraglia accordo comune-regione per una soluzione win-win i tecnici chiudono in dieci giorni oltre dieci anni di battaglie politiche finalmente dovrebbe essere la scelta definitiva ma staremo a vedere perché nulla è scontato in sanità e abbiamo qui invece un articolo che riguarda una scelta una dichiarazione del medico catalano ho sempre sostenuto il sito di Muraglia dichiarato i pesaresi si meritano una sanità di eccellenza sarà una struttura da 372 posti e costerà 150 milioni di euro ora la sfida è sui tempi di realizzazione qui abbiamo una fotografia con lo spazio che sarà occupato dalle nuove strutture 372 posti letto previsti 150 milioni di euro costo stimato 42 mila metri quadri l'estensione totale 48 mila metri quadri l'espandibilità dell'area di Muraglia dove già esistono i reparti di radioterapia il polo oncologico ematologia e altre strutture e qui abbiamo la partenza delle vaccinazioni all'oratorio della Madonna di Loreto nella parrocchia di Loreto lamentati ritardi per le fiale destinate agli under 65 sono quelli che poi che sono in primo piano per essere vaccinati di nuovo piazza del popolo sarà riqualificata ma la soprintendenza deve dire sì ci sono vincoli non superabili rispetto al Selciato alle lastre di marmo il comune apre il confronto intende insomma intervenire sulla piazza centrale di Pesaro con un nuovo look è stato approvato un progetto preliminare per la sistemazione appunto del Selciato soprattutto dove ci sono crepe dislivelli tra i tasselli di Porfido con conseguenti disagi perché cammina a piedi soprattutto chi va in bicicletta autorubata in via Rossi recuperata a tempo di record c'è stata una bella operazione della polizia che ha arrestato anche il ladro e il proprietario ovviamente ringrazia il furto il furto è stato fatto nei confronti di una 500 una 500 bianca X è successo ieri sera alle 18.30 il proprietario è riuscito un attimo lasciando il quadro elettrico acceso un ladro è entrato si tratta di un foggiano di 37 anni ha preso l'auto ed è scappato però l'auto aveva un localizzatore e tramite questo i vigili hanno purato che stava viaggiando in autostrada si sono subito gettati all'inseguimento l'hanno raggiunta pensate a Civitanova perché il ladro ha capito di essere inseguito e quindi calzava l'acceleratore a più non posso a Civitanova invece è stato raggiunto ed è stato arrestato è stato denunciato è stato arrestato anzi per furto aggravato dal fatto che il bene era sulla pubblica via Miralfiore lo spaccio ha una gerarchia se vuoi restare devi lavorare con noi così accade il parco del Miralfiore a Pesaro è un luogo bellissimo ma è un luogo anche un po' a rischio lì si fa lo spaccio della droga ma ci sono delle strutture ben diciamo così strutturate insomma ci sono tutte delle gerarchie da seguire chi vuole entrare nel giro deve seguire gli ordini di chi sta sopra di lui luoghi di lavoro è stretta sulla sicurezza le irregolarità fanno scattare molte salate raffica di ispezioni in aziende e attività da parte dei carabinieri del NIL il nucleo ispettorato del lavoro e anche da parte dell'ASUR dopo questi controlli sono emerse molte irregolarità ci sono lavoratori in nero e sono state fatte multe per decine di migliaia di euro i sopralluoghi sono stati compiuti a Tavuglia in altre località del territorio ci sono molte irregolarità che spesso producono incidenti anche incidenti gravi ricordiamo le morti sul lavoro che si succedono dall'inizio dell'anno ad un ritmo impressionante a Vallefoglia ancora cronaca Ashish per tutti i gusti è stato arrestato ai domiciliari un insospettabile 24enne scoperto a coltivare lavorare confezionare marijuana e canapa nella casa rurale in cui abita i militari hanno anche trovato polvere per variare l'aroma dello stupefacente comunque nulla è sfuggito agli inquirenti ai carabinieri che hanno trovato questo nuovo punto di spaccio auditorium firmato il contratto via i lavori a Vallefoglia si tratta di un'opera da più di un milione di euro utile anche come cineteatro nella frazione di bottega quindi non solo i centri dei capoluoghi ma anche nelle periferie luoghi di divertimento a Urbino si parla dell'incidente che ha provocato la morte di Edgardo Gelli Romagna mio e Fermignano tua insomma è un gioco di parole per il liscio le canzoni del liscio che cantava questo artista la città adottiva piange ci mancherà la voce del liscio morta investita a Bivio Borzaga oggi l'autopsia il sindaco Feduzzi quante risate insieme insomma un personaggio che se ne va in maniera tragica ed era amato da tutti a Fano Cinque Stelle e Dem prove di futuro lusingati ma serve un cambio di rotta hanno dichiarato i Cinque Stelle in merito alle profferte di alleanza di intesa da parte della sinistra i Cinque Stelle sono comunque scettici in merito a questo connubio per rendere anche solo valutabile un tentativo di accordo con il centro sinistra dicono occorrerebbe da domani quindi da subito che la Giunta imprimesse un cambio di rotta radicale alla propria azione ora i Cinque Stelle e il Consiglio Comunale a Fano sono all'opposizione e se vogliono un pochino trovare un'intesa con una delle forze almeno della maggioranza devono avere un pretesto valido per poter entrare nell'ambito della coalizione appunto di potere e abbiamo anche un ritorno da parte dell'ex Presidente del Consiglio Regionale Claudio Minardi che se ne sta un pochino appartato dopo le ultime elezioni il PD forte in alleanze larghe dice impostando chiarezza di programmi e rapporti Draghi Doce te lo fa in previsione del congresso del partito che dovrebbe tenersi dal 25 novembre al 12 dicembre il PD dice ancora due anni e mezzo per stimolare l'amministrazione per fare in modo che la città assuma un ruolo più attivo sia verso le vallate di riferimento sia verso Pesaro sia verso Pesaro valutiamo bene queste parole infermiera positiva va a spasso è stata assolta la quarantena non era firmata da seri era stata sorpresa dalle forze dell'ordine durante il lockdown quando non si poteva uscire di casa lei invece era positiva insieme a tutta la sua famiglia le sue scuse che giustificavano la sua uscita non sono state convincenti è stata quindi dichiarata suscettibile di tutti tutti i provvedimenti relativi a chi era fuori dalla normativa ma il giudice cosa ha fatto per un cavillo l'ha assolta dicendo che il provvedimento dell'Azur doveva essere controfirmato da un'ordinanza del sindaco e questo non c'è stato e quindi il suo arresto la sua denuncia non era valida Don Camillo è pirandello omaggio ai 150 anni di Ruggeri quest'anno si celebra in 150 anni della nascita di Ruggero Ruggeri il grande attore della prima metà del secolo scorso nato a Fano in una stanzetta di Palazzo Bracci Pagani e quindi Fano sua città natale anche se lo ha avuto per poco per pochi mesi perché poi se ne è andato a Milano e in altre località ebbene avrà tante tante iniziative che lo ricordano a cominciare da quella di venerdì prossimo alle ore 18 quando nel foyer del Teatro della Fortuna si inaugurerà una mostra di fotografie che erano di proprietà proprio dell'attore scelte tra le 200 che erano disponibili giriamo ancora sulla Val Metauro abbiamo ancora un articolo di Fano via Negussanti la strada a cantiere stalli spariti ma lavori divisi in quattro non verrà chiusa tutta via Negussanti per eseguire i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile ma verrà chiusa a tratti in quattro mandate si comincia con la mandata da Via De Mille a Viale Gramsci e poi via via tutto il resto secondo un'articolazione che permette agli operai di realizzare l'opera entro il mese di novembre perché nei primi giorni di dicembre dovrà essere tutto compiuto e ieri c'è stato un incontro con i commercianti della zona dell'assessore lavori pubblici Tonelli monte di pietà da chiudere Berloni scrive a intesa San Paolo è un articolo che riguarda Fossombroni e Berloni è il sindaco il nuovo sindaco della città della città metaurense il sindaco è stato informato casualmente da un cittadino che andava a impegnarsi una fede e ha saputo che Banca Intesa intende spostare il Banco di Pegni a Milano un banco storico pensate che è stato fondato nel 1507 dal Duca di Urbino Guido Baldo primo insomma sia una perdita importante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista storico culturale per la città di Fossombroni Carloni presenta il reshoring così i fabbricati rinascono che brutta parola reshoring credo che pochi riescano a capire di che cosa si tratta in realtà è un progetto che ha come obiettivo il recupero e la riqualificazione dei fabbricati dismessi o l'ampliamento di fabbricati di unità produttive già esistenti Carloni ha scelto Monteporzio per illustrare questo progetto la regione ha stanziato 2 milioni di euro e altri 4 e mezzo sono già in previsione per altri interventi vediamo anche Senigallia padre e figlia faccia a faccia con i ladri ci hanno derisi e poi sono scappati un episodio di cronaca veramente preoccupante per l'impudenza con cui questa banda di ladri ha trattato le vittime le vittime di un appartamento dove sono stati portati via degli preziosi dei monili dei gioielli indossati per una festa per un anniversario padre e figlia affrontano i ladri loro li deridono e scappano insomma una vicenda veramente dei qualificanti sul resto del Carlino dovete lasciarmi libera di amare ripeto ancora la dichiarazione della ragazza che è stata malmenata dai genitori ma ora cerca una ricomposizione e noi invece ripartiamo dalla sanità regione e comune trovano l'accordo il nuovo ospedale sarà fatto a muraglia la zona sud preferita case bruciate garantisce miglior servizio sanitario più adatta dal punto di vista urbanistico i tempi i tempi dei lavori sono simili e quindi non c'è differenza ambientalisti invece insorgono impatto visivo devastante e il fronte del partito democratico ora chiede di accelerare i tempi due visioni contrapposte insomma ambientalisti dicono di non approvare questo progetto il PD invece incalza dice adesso ormai la scelta è stata fatta quindi andiamo avanti e realizziamo questa opera antinfluenzale la carica dei 200 all'oratorio Loreto somministrate solo al mattino circa 190 dose e per martedì altrettante prenotazioni fuga di guardie mediche la regione ignorò l'allarme questa è la denuncia della consigliera regionale Vitri che ha avanzato una interrogazione all'assessore Saltamartini a giugno dice già si sapeva come sarebbe andata a finire tutte le proposte dei medici sono state trascurate e quindi era logico pensare che poi piano piano se ne fossero andati su 28 professionisti solo 11 sono iscritti ora alle specialità perché sono quelle specialità molto molto difficili da sostenere per molti mancavano le condizioni ordine dei farmacisti nel caos tutti dimessi a decidere di azzerrare il direttivo un provvedimento disciplinare preso nei confronti di un iscritto un provvedimento che non è stato accolto da tutti i componenti del direttivo i quali quindi per dissidi tra di loro hanno deciso di mettersi in massa un peso massimo sulla sanità provinciale un provvedimento su cui non è stato possibile ricompattare la maggioranza lo dichiara anche Giovanni Pierini che è il presidente che era possiamo dire il presidente dell'ordine provinciale ci sono state divergenze sulla gestione dell'attività dell'ordine che hanno creato un'incompressione dal punto di vista dei rapporti personali e per questo responsabilmente l'intero consiglio alla unanimità si è dimesso e quindi si dovrà procedere a nuove elezioni la rapina era incerta se fosse uno scherzo ma ho protetto il market come se fosse il mio guardate questa ragazza la chiamano la cassiera coraggio che non ha ceduto alle prime intimazioni di un rapinatore che chiedeva di avere i soldi della cassa ha un po' tergiversato finché non è entrato un cliente il che ha disturbato il rapinatore il quale ha preferito andarsene senza bottino e qui oggi c'è una intervista di questa ragazza scusate si chiama Ilaria e ha 25 anni e sul resto del Carlino ritroviamo la fotografia di Rosetta Fulvi che è stata presidente del Consiglio Comunale di Fano ora Rosetta Fulvi si candida alla segreteria provinciale del Partito Democratico inizia la corsa per la segreteria una sfida nel segno della unità ha dichiarato mi candido per cambiare tutto ebbene questo Consiglio provinciale questo direttivo questo congresso diciamo meglio è atteso da diversi mesi il PD è un partito che deve cambiare sia all'interno sia all'esterno con i cittadini ha dichiarato la Fulvi dobbiamo riuscire a superare la logica dell'autoreferenzialità e metterci in comunicazione con tutte le forze sociali disponibili a un colloquio assegnati i lavori per il nuovo auditorium a Vallefoglia il sindaco Ucchielli a giorni sarà allestito il cantiere e la conclusione è prevista per la fine del prossimo anno a Fano si parla anche sul Carlino di Via Negusanti il comune ci ripensa non chiude la strada ma la chiuderà un pezzo alla volta dopo le proteste degli esercenti l'annuncio dell'assessore Tonelli procederemo per gradi per creare meno disagi possibili l'appello anche della Marcolini che è presidente della Confcommercio l'importante è finire prima di Natale scadenza e molto molto importante per i commercianti mancano vestiti e coperte e il magazzino non si trova attività ferme dopo l'incendio che ha mandato in fumo quintali di abiti nella chiesetta di Centinerola ma i bisognosi aumentano e il freddo non aspetta quello che è stato offerto fino adesso non era abbastanza capiente come area come locali per mantenere per insomma avere come deposito da disporre per gli abiti e anche il Carlino interviene sulle manifestazioni programmate da un pool di enti comune Fondazione Carifano Fondazione Teatro della Fortuna Banca di Credito Cooperativo Fano Rocca così come è stato fatto per Fano per Dante lo si farà per Fano per Ruggeri insomma una serie di iniziative importanti tra mostre convegni laboratori filmati video audio tutto quello che riguarda questo grande attore che visse nella prima metà del secolo scorso e poi una vicenda significativa il fisco batte cassa con un altro pensionato pensate cosa può prendere un pensionato gli chiede arretrati fiscali per 11.000 euro ma in questo caso si tratta del francese che si chiama Jean Coquelin ha lavorato in Germania in questo caso lui paga le tasse in Germania ma lo Stato italiano vorrebbe che le pagasse anche in Italia insomma una doppia tassazione che non starebbe né in cielo né in terra gli angeli della protezione civile si rinnovano cambia il consiglio direttivo dell'associazione di volontariato a Marotta che dal 2015 offre supporto in tutte le situazioni di emergenza e non solo e ci rimane un minuto per quanto riguarda lo sport lo leggiamo sul resto del Carlino visse incontro Bosco Pizza in tribuna al Benelli il presidente Biancorosso invita allo stadio il numero uno del futsal giorni fa c'era già stata una cena in un noto ristorante della città tra i due si sarebbe parlato di una possibile collaborazione per quanto riguarda l'Alma invece a ore il nuovo mister in pool ci sono Cappellacci e Angelini ma potrebbe spuntare anche un nome a sorpresa intanto il tecnico in seconda guida la squadra in vista del match domenica prossima col Tolentino insomma la società sfoglia la margherita ed analizza le diverse opzioni per quanto riguarda la conduzione del team dei Granata e per il basket paceco in partenza il mercato si muove il brasiliano ha una richiesta dalla Polonia ma contro Napoli giocando sabato in anticipo bisognerà resistere con gli stessi uomini ebbene chiudiamo i giornali abbiamo terminato la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre alle ore 7 le notizie tornano su Fano TV alle 20 e 30 di questa sera buona giornata a domani a domani a domani